Cerchi la soluzione giusta per un pranzo veloce o una cena raffinata da condividere con gli amici? Vado di freddo! Vado di freddo è congelati e surgelati dall'antipasto al dolce. Tanti prodotti pronto forno, semplici, saporiti e genuini. E per chi vuole dedicare più tempo alla propria tavola, tantissime soluzioni di carne, pesce o verdure. Vado di freddo completa la sua scelta con contorno, dessert e tutto per la prima colazione. Fornetteria e rosticceria, gelati e torte, tutto a prezzi estremamente convenienti. Scarica l'app Vado di freddo e resta sempre aggiornato sulle nostre numerose offerte. Ci trovi a Trinità di Sala Consilina, in Piazza Ritorto a Polla, a Prato Perillo di Tegiano e a Oliveto Citra. Vado di freddo, gustose soluzioni, sotto zero, sotto zero.